Benvenuti e benvenute a tutti quanti, è un piacere e un onore avervi qui tutti, avere soprattutto la Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, professoressa Maria Chiara Carrozza, qui da noi per la prima edizione della Emmy Nature Lecture Award. Prima di entrare nel programma e spiegarvi appunto questa iniziativa che abbiamo fatto, ci sono i saluti istituzionali della magnifica rettrice professoressa Tiziana Lippiello. Grazie Stefano, buongiorno a tutti, buongiorno Maria Chiara. Innanzitutto desidero dare il benvenuto alla professoressa Carrozza, Presidente del CNR, per essere tornata a Venezia in pochi giorni. L'ho vista una settimana fa al centro del CNR, bellissimo centro del CNR e oggi ritorna qui e questo per noi è un segnale importante, è un segnale di una volontà di incrementare le relazioni con il nostro Ateneo, abbiamo collaborazioni con il centro ISMA, abbiamo il centro sulle scienze polari e quindi il desiderio è quello di intensificare le collaborazioni con i due dipartimenti di area scientifica ma non solo. Ringrazio il direttore del Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi, in particolare Stefano Bonetti, Guido Caldarelli e Achille Giacometti per aver fortemente voluto questa lecture della professoressa Carrozza e averla intitolata Amy Noder Lecture. Abbiamo quindi una scienziata che ha avuto grande successo con tante difficoltà e oggi invitiamo una scienziata che ha però ricoperto tanti carichi istituzionali, è stato ministro, è stato rettore e ora appunto è presidente del CNR, quindi una carica molto importante e siamo qui tutti riuniti per ascoltare appunto la sua esperienza e la sua carriera, come è stata la sua carriera. Credo che per una donna sia particolarmente difficile non solo fare appunto la scuola, la scienziata, ma anche ricoprire incarichi istituzionali così importanti. E infine vorrei ringraziare il Dipartimento di Scienze Molecolari perché mi ha dato l'occasione di tornare a Via Torino e incontrare i colleghi, gli studenti, le colleghe del Dipartimento di Scienze Molecolari ma anche del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatiche e Statistiche che anche qui è rappresentato. Grazie e vi ridò la parola. Grazie, adesso sentiamo alcune parole dal Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, il Professor Maurizio Selva. Lettrice, Professoressa Carrozza, cari colleghi, cari colleghe, personale tecnico, dottorandi, dottorande, studenti e studentesse. Con grande piacere a nome del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi che rappresento do il mio più caloroso benvenuto alla nostra illustre ospite, la Professoressa Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Mi si consente qualche nota anche storica sul nostro Dipartimento per il quale userò l'acronimo DSMN che penso potrà essere di interesse anche alla nostra ospite. Il DSMN nasce nel 2011 dalla fusione principalmente di due dipartimenti, uno di chimica e uno di chimica fisica, con un contributo minore dell'allora Dipartimento di Scienze Ambientali. La composizione del DSMN all'epoca era sostanzialmente focalizzata su un'unica disciplina, la chimica declinata in diversi settori con un piccolo gruppo di fisici e un'offerta didattica riferita ad un corso di chimica e tecnologie sostenibili e uno di beni culturali. Non è l'addizione precisa ma consentitemi questa per indicarne il contenuto ai fini pratici e uno dedicato allo sviluppo e alla caratterizzazione dei bio e nanomateriali. Da allora molte cose sono cambiate. Dal 2017, anche grazie all'attivazione di un nuovo corso di studi in ingegneria fisica e di un nuovo dottorato in scienza e tecnologia dei bio e nanomateriali, il Dipartimento ha cambiato completamente fisionomia con l'arrivo di nuove competenze nell'ambito della fisica, dell'ingegneria, della biologia e della matematica. Ora il DSMN è una comunità ancorché relativamente piccola, perché siamo poco più di 50 ricercatori strutturati, piuttosto giovane, che ha investito nel raclutamento di profili talentuosi e intende continuare su questa strada che sta premiando. Basti pensare che circa il 50% dell'attuale personale del DSMN non era qui solo 5 anni fa. Questa trasformazione radicale, anche da un punto di vista generazionale, sta prendendo il Dipartimento ad una ricerca dinamica e vivace, connotata da grande interdisciplinarità e innovazione, su temi che vanno dalla chimica verde sostenibile allo sviluppo di nanobiomateriali per svariatissime applicazioni allo studio di sistemi complessi e delle reti, alla materia condensata, alla fisica del cervello e a molto altro. Insomma è una ricerca che è una natura, è un senso, consentitemi se vogliamo analoghi a quella che caratterizza il lavoro della nostra ospite qui oggi, che con curiosità mi sono permesso di esaminare, anche se molto superficialmente, guardando i titoli dei lavori scientifici. Se ho colto bene, il tema generale è estremamente affascinante, trattando di biorobotica, che è una materia che coniuga robotica medica, tecnologie indossabili, robotica bio ispirata, ingegneria neurale e di sicuro molto altro. Prima di concludere torno un momento al DSMN, citando un ultimo dato, che è in controtendenza rispetto alle immatricolazioni STEM in Italia. Nello specifico sono orgoglioso, direi, di segnalare che abbiamo una popolazione studentesca in crescita di circa il 40%, cosa che, ripeto, non si sta verificando nel panorama nazionale. Io, anzi, noi in Dipartimento, vogliamo credere che questi numeri siano dimostrazione che il futuro della scienza è nel suo insegnamento. e il mio auspicio è che questo possa essere un segno di quanto la ricerca interdisciplinare, innovativa ed internazionale sia qualcosa che i giovani che aspirano a diventare ricercatori tecnici e professionisti in ambito scientifico stiano riconoscendo e premiando con le loro scelte per costruire il loro futuro. Bene, qui chiudo, rinnovando il mio benvenuto alla professoressa Carozza e sono certo che il tema di cui ci parlerà oggi sarà senz'altro di sicuro interesse. Grazie, grazie professor Selva, grazie Maurizio. E se posso chiedere adesso di girare sulle slide che ci sono sul computer? Ok, sentite, sì, ecco, non mi ero presentato, sono Stefano Bonetti, professore di fisica della materia e coordinatore del corso di studi in ingegneria fisica. che oggi faccio da chairman e mi prendo solo tre slide, cinque minuti, per spiegare, mettere un po' in contesto perché siamo qui oggi, che cos'è, da cosa nasce tutto questo. Andando ancora un pochino più nel dettaglio, siamo partiti da Teneo, direttore e adesso quindi dipartimento e arriviamo al corso di laurea di ingegneria fisica che è partito in mezzo a una pandemia, siamo partiti nel 2020, non si sa bene come abbiamo fatto, ma oltre a chiaramente al supporto che l'Ateneo e le persone della rettrice e anche del direttore ci stanno continuando a dire, vorrei qui subito ringraziare il professor Bugliesi, Michele Bugliesi e il professor Riello che erano il precedente rettore e il precedente direttore in cui in questo momento folle della nostra vita che è stato con la pandemia ha permesso di farlo partire senza appunto questa insistenza sarebbe stata molto difficile, il loro sport. Quindi grazie a chi c'era e a chi c'è per il fatto che questo corso esiste, che come ha detto il direttore sta crescendo, noi siamo, abbiamo il nostro numero di studenti raddoppiato in due anni, abbiamo da una ragazza su dieci iscritta a una su tre, siamo molto contenti di questo grazie a tante iniziative supportate da Teneo e da aziende esterne e abbiamo deciso di fare qualcosa che non era, insomma la bellezza di essere venuti qua a Venezia in un dipartimento che si stava rinnovando e ci hanno detto fate il meglio che potete e abbiamo potuto esplorare cose che in Italia non c'erano e una di queste cose era fare questi tre curricula, quindi quantum science technology c'è qualcosa ma diciamo noi siamo credo l'unico corso magistrale ancora oggi che si occupa della fisica dei materiali e delle tecnologie quantistiche in questo modo e questo curriculum viene fatto soprattutto qui, questi sono i tre curricula della laurea magistrale che sta partendo adesso, quindi siamo partiti con la triennale e adesso partiamo con la magistrale. Poi abbiamo un curriculum in physics of finance and economics, questo insieme al dipartimento di economia a Cafoscari, una delle eccellenze del campus e questo abbiamo avuto molto supporto da Monica Biglio che era ai tempi la direttrice del dipartimento di economia e inoltre abbiamo questo che è forse quello più collegato, se vogliamo, in qualche modo a quello che è stata anche la ricerca della nostra ospite, è il physics of the brain, questo è un curriculum che abbiamo veramente dovuto mettere insieme un puzzle particolare per farlo accettare al ministero perché sono diverse competenze ma ha funzionato e siamo molto contenti che chi sceglie questo curriculum l'abbiamo fatto in collaborazione con una scuola di eccellenza che è la Sissa di Trieste e anche qui il supporto di Stefano Ruffo che era il direttore della Sissa e di Dante Mantini che era il direttore scientifico dell'IRCCS San Camillo al Lido sono stati fondamentali e crediamo che questi tre curriculum siano molto molto, come si dice in inglese, forward looking e sono un'opportunità eccezionale per i nostri studenti e le nostre studentesse per poi trovare lavoro in questi ambiti. Quindi questa è la didattica e la didattica però è stata costruita anche a qualcosa che noi sappiamo fare bene che è la ricerca e con questo nome un po' divertente ma che ha un acronimo abbiamo creato questa web page Super Venice che sta per Scientific Unit for Physics and Engineering Research in Venice, è molto difficile trovare acronimi perché Venezia ha tutto quasi quindi abbiamo dovuto trovare qualcosa che funzionasse e questo è un grande lavoro di una delle nostre più giovani reclute, Domenico De Fazio che ha messo questo sito e in cui cerchiamo di catalizzare la nostra ricerca, quindi una didattica che è molto legata alla ricerca che facciamo. Il logo, se qualcuno l'ha notato, è un H barrato, la costante di Planck ridotta attaccata a un ferro di prua di una gondola. Quindi questo tanto merito a Guido Caldarelli che ha avuto questa idea. Facciamo ricerca, siamo molto contenti perché vogliamo veramente spingere ricerca top, dal 2019 abbiamo dieci articoli in giornali top, tantissimi anche in altri giornali ma non vogliamo essere l'ingegneria o la fisica di serie B di nessuno, vogliamo spingere ricerca al top e per promuovere la ricerca che facciamo per invitare gente, ricercatori, ricercatrici dall'estero o da italiane che insomma legate a queste tematiche abbiamo iniziato questa serie di colloquia. Quindi una volta al mese abbiamo un ospite dall'Italia o anche insomma abbiamo avuto anzi più gente non dall'Italia che dall'Italia che viene e racconta della sua ricerca. Una volta all'anno abbiamo deciso di assegnare un premio quindi particolarmente legato all'ingegneria fisica e l'ospite oggi ha esattamente entrambi i titoli nel suo curriculum come vi dirò per premiare una scienziata in questo caso declinata al femminile che sia distinta per l'eccellenza scientifica o un eccellente contributo alla scienza. È un caso particolare del nostro ospite che è sia un'eccellente scienziata che ha contribuito in maniera eccellente anche a livello politico alla scienza di questo paese quindi siamo molto contenti e onorati che abbia accettato il nostro invito. Quindi questa è l'idea ok? L'idea che una volta all'anno ci ritroveremo qui speriamo sempre di più a premiare persone che hanno fatto qualcosa di veramente importante per la ricerca scientifica nell'ambito dell'ingegneria e della fisica. Ultima cosa poi ho finito la terza missione quindi la ricerca è collegata anche alla terza missione. Ne cito solo alcune non voglio fare la lista della spesa completa la faccio solo parziale però nel 2020 abbiamo invitato il presidente dell'Accademia dei Nobel per aprire l'anno accademico. Nel 2021 abbiamo avuto non so chi c'era in prima mondiale un documentario bellissimo penso che chi c'era l'ha apprezzato che si chiama Water the Strangest Liquid i cui due scienziati principali Anders Nilsson da Stoccolma e Francesco Shortino da Roma erano qui. È stato veramente un evento bellissimo. Mi hanno detto che è quasi finito il deal con le piattaforme che tutti conosciamo quindi dovreste poterlo vedere. Se vi capita di vedere da qualche parte guardatelo è veramente stupendo. Nel 2022 abbiamo avuto l'occasione di avere qui il premio Nobel Albert Fert per una conferenza internazionale di fisica organizzata all'auditorio Santa Margherita. Oggi abbiamo questo evento e due cose. Una cosa voglio dire questo venerdì i nostri fantastici dottorandi, i dottorandi giovani ricercatori Giulia, Laura, Jacopo e Federico hanno organizzato un evento al Forte Marghera che si chiama Bay of Science discorsi sul clima. Quindi cerchiamo anche di divulgare e di far uscire dall'Accademia quello che facciamo. E per chiudere il circolo da didattica ricerca terza missione verso la didattica di nuovo e che è legata anche alla lezione di oggi della nostra ospite abbiamo anche proposto un minor honor in comunicare la complessità. Insomma abbiamo tutti avuto modo di vedere nella pandemia che c'era bisogno di saper comunicare i dati scientifici in maniera efficiente o le scoperte della scienza se vogliamo e questa è una cosa che crediamo che una generazione che viene formata in ambito scientifico deve avere nelle sue capacità e il tema scelto dalla nostra ospite calza esattamente a pennello in tutto questo. Benissimo, io ho finito e per il prossimo momento dell'evento è una breve onore a chi dà il nome a questa lecture award che è Mi Noether e qui abbiamo il professor Guido Caldarelli che ci farà una breve lezione sul teorema di Noether. Siete tutti adulti sapete che nella vita arriva sempre un momento noioso ma no no non vi preoccupate anch'io ci ho pensato quindi sarò veramente molto breve. Allora innanzitutto Mi Noether è una matematica però noi oggi vogliamo onorare la sua memoria per quello che ha fatto per la fisica io poi sono un professore di metodi e modelli matematici per la fisica quindi è esattamente diciamo sotto questo aspetto che ci rivolgiamo a Mi Noether. Mi Noether e poi andremo molto velocemente poi dopo sulla parte tecnica ma su alcune cose invece voglio perdere un po' di tempo perché penso che sia un messaggio molto importante. È stata una delle poche iscritte a matematica nella sua epoca come in fondo anche adesso succede e ha mostrato subito un talento per questa disciplina. Ha dovuto combattere molto non solo per insegnarla come era suo diritto ma anche per studiarla. Comunque lei ha studiato matematica ha cominciato ad ottenere dei risultati così brillanti che tutta la comunità scientifica. Questo succede sempre quando una persona è brillante spesso è anche onesta. Non sempre non voglio dire Kaloske Agatos. Però insomma diciamo quelli mediocri l'hanno combattuta più di Hilbert. Ecco diciamo che era invece molto bravo. Osteggiata riceve alla fine un minimo riconoscimento. Può insegnare ma può insegnare come docente privato. Cioè non fa parte dell'Ateneo. Di famiglia ebraica deve andare via dalla Germania. Andrà negli Stati Uniti. Ha comunque già fatto tantissimo più di quello io posso fare un paio di vite. Nessuna molto meno. Ha fatto molto di più. Il suo teorema rimane è un algebrista. Ha fatto mille cose però noi parliamo solo di quello che ha un impatto nella fisica che è il suo teorema. E fa una cosa bellissima. Mette in relazione due cose che chi ha studiato un po' fisica ha imparato a conoscere. Cioè che esistono delle simmetrie nel sistema e che magicamente ci sono delle quantità che sono sempre le stesse. L'energia si conserva. Ma anche se non l'avete studiata avrete sentito un collega che diceva questa frase. Ecco lei le mette in relazione. Spiega perché. Niente proprio di me. Allora una cosa però voglio dire proprio perché abbiamo tante studentesse. Il caso di Amineter non è un caso isolato. Potremmo dire va bene è capitato nel passato adesso non è più così. Adesso è meno così. Però è ancora abbastanza problematico il ruolo femminile. Quindi qui ho messo una citazione. It didn't escape our notice. Magari c'è qualche biologo qui o qualcuno che ha letto già questa frase. Una frase con cui viene annunciato il fatto che il DNA può essere la spiegazione della vita. viene data da due persone. Sono tre in realtà i firmatari dell'articolo. Sono Crick, Wilkins e Watson. Però il ruolo di Rosalind Franklin è completamente nascosto. Questi tre prenderanno il Nobel per il DNA ma è la foto 61 mi pare. La foto 51 che è quella che mostra la doppia elica. È quella che è stata fatta da un esperimento di Rosalind Franklin. Lei non protesterà mai per questa cosa perché non sa che la sua foto è stata presa, di nascosto e mostrata agli altri tre. Da Wilkins. Quindi per questo non ha mai protestato. Lei è una delle scopitrici del DNA ma nessuno ne parla. Rietta Leavitt è la persona, una volta le donne venivano utilizzate al posto dei computer. Non so se lo sapete questo. Venivano utilizzate per fare i calcoli. Quindi in un dipartimento di astrofisica lei fa i calcoli, scopre la luminosità, la relazione della luminosità delle stelle. Quindi puoi calcolare la distanza con una legge semplice. Bene, insomma si capisce che il merito è suo ma un po' tardi. Lei purtroppo è già morta, non può prendere il premio Nobel. Però il suo capo ufficio prova a farselo assegnare ma non le viene dato. Lo dico soprattutto per i dottorandi. Le dottorande. Jocelyn Bell, astronoma, scopre le pulsar, scopre queste stelle che mandano questo segnale così caratteristico. Ma lei è solo una dottoranda, quindi non viene premiata col premio Nobel. Lei le scopre? Ma il Nobel va ai suoi capi laboratorio. E' ancora viva. Ha vinto però un premio dato dalla comunità internazionale di fisica, molto più cospicuo del premio Nobel. Sono circa 3 milioni di dollari. E' finita sulle bancanote. Lei è sulla moneta di 50 pound dell'Irlanda del Nord. Quindi è rappresentata lei. E quindi un minimo riconoscimento viene dato. Però ecco, fate attenzione. Diciamo, questo è un pericolo che ancora c'è. Quindi, diciamo, se voi vedete l'effetto Matilda, lo potete studiare su Wikipedia. Spiega come alle volte, quasi sempre, molto spesso, insomma il merito poi viene elevato alle ricercatrici. Donne viene preso magari da altre persone. Questo sarebbe magari il caso che ne parlasse una donna, non io. Però invece credo che questo sia un problema di tutti. No, quindi, insomma, ne parlino anche gli uomini. Penso vada bene. E il teorema di Netter. Il teorema di Netter. Che cosa dice? Allora, noi siamo ossessionati con il moto. I fisici, però, è una cosa pazzesca. Non riescono a dormire se non studiano perché le cose si muovono. O, dovrei dire, perché si fermano. Il fatto che si muovono è normale. I primi anni, per chi ha fatto fisica, ingegneria e le materie scientifiche, sono funestati da esercizi in cui l'unica speranza di trovare la soluzione è dire va bene, conservo delle quantità, l'energia e il momento. Ora, sono necessarie queste quantità per risolvere gli esercizi, ma anche per prevedere il futuro. Perché se io so due palline, cosa stanno facendo adesso, so che interagiranno, si urtano essenzialmente, so anche che cosa succederà in futuro. Quindi ho una conoscenza completa del mio fenomeno. Lo posso fare, diciamo, con questo trucco. Ma qual è la ragione di questo trucco? È legato, ci spiega Eminetra, il fatto che ci sono delle simmetrie. In che senso? Simmetria, pensate alla cosa che ha il termine, no? Quindi a cosa vuol dire la parola. Ecco, è leggermente diverso. Immaginiamo che io vi faccia vedere solo quella mezza figura, ve la copro, vi dico, come sarà l'altra metà di quella figura che vedete? Beh, non lo sapete, però, insomma, questo è ragionevole che sia così. Cioè, quello che manca io lo capisco da quello che vedo. Ma in questo senso è una simmetria. Allora, la struttura in qualche modo non cambia. Se la struttura non cambia durante questa simmetria, chiedo perdono a tutte le persone, insomma, che questa cosa l'hanno studiata in maniera più tecnica, più precisa, insomma, se il mio sistema non cambia, per esempio quando io ruoto, per esempio se aspetto un'ora per fare il mio esperimento, per esempio se sposto il mio banco di lavoro dove sto facendo l'esperimento e mi aspetto che le cose non cambino, allora c'è un qualche cosa di profondo in questo che ho fatto. Allora, se, per esempio, la funzione che mi descrive il mio sistema, non ve la spiego, però, la funzione lagrangiana è una funzione delle coordinate, è una funzione delle derivate delle coordinate, che possiamo dire essere l'energia cinetica di un corpo, o meno la sua energia potenziale. Ora, se questa funzione non cambia spostando il mio sistema, allora io ho un'invarianza rispetto alla traslazione. Il teorema di Netter ci spiega che allora se questo succede c'è una quantità che si chiama quantità di moto, o momento, prendendo una parola dall'inglese, che rimarrà costante nel mio sistema. Se ruotando il mio sistema non cambia, quindi questa funzione non dipende da nessun angolo, non dipende da verso dove sto guardando, ce ne sarà un'altra che si conserva, si chiama un momento angolare. Quello per cui, uno dei motivi per cui non cadiamo quando la bici è in movimento, mentre dobbiamo fare molta fatica per restare in equilibrio quando è ferma. Se la famosa energia si conserva, è perché il mio sistema è invariante nel tempo, quindi posso fare l'esperimento oggi, lo posso fare domani, i risultati non cambiano. Allora in questo caso è assicurato che questa simmetria è legata a una quantità conservata. Ora, breve, potrei anche fermarmi qui. Non vorrei essere... Mi fermo qui. Vado molto veloce, vado molto veloce. Va bene. Allora, diciamo, questa formulazione, se la volete vedere nei conti, viene da un approccio diverso. La fisica, come l'abbiamo studiata tutti, parte dai principi di Galileo e Newton. Le forze sono il postulato da cui in maniera deduttiva ricavo tutto. Ecco, non proprio tutto, perché se faccio così, poi la conservazione dell'energia viene fuori perché si conserva in laboratorio. Insomma, va bene, però non è proprio soddisfacente. C'è un altro modo di vedere le cose, cioè di immaginare che esista una funzione, è un integrale di questa funzione lagrangiana, e quella funzione deve essere minima lungo le traiettorie permesse. Allora, se noi facciamo quello, tutto discende con un poca algebra in maniera estremamente elegante. Quindi, per esempio, se io considero una lagrangiana, veramente è banale, un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme perché non ha potenziale, non ha forze che agiscono. È un mezzo mv quadro, un mezzo q punto quadro. Allora, dal fatto che non ci sia in quella lagrangiana una dipendenza esplicita dalle coordinate, vuol dire che il momento mq è costante, quindi m per q è costante. E così via. Vado solo al tempo, perché questa è la parte più bella. Con un poco di algebra, si vede che da quella imposizione, che si amminima l'azione su tutte le traiettorie, ne discende quella serie di equazioni. se io quelle le rimetto un po' a posto, trovo una nuova funzione, si chiama la funzione hamiltoniana, quella che dà l'energia di un sistema ed è l'unica cosa che sappiamo della fisica quantistica, di quella molto piccola, che studia Stefano ogni giorno. Quindi il teorema di Neter ci permette, ci mette in contatto con un mondo che non solo ci spiega quello che già conosciamo, ma ci fa scoprire quello che ancora non conosciamo. Adesso mi fermerei proprio, però. Lascerei. Grazie. Grazie Guido. Adesso lo sai che lo devi rifare ogni anno questo? Ogni anno è diverso. In ogni anno faccio i conti. Esatto. Grazie mille e spero che insomma almeno questo sia stato una buona introduzione appunto al personaggio e all'importanza di quello che ha fatto. È veramente fondamentale della fisica. Arriviamo ora all'ospite principale della giornata e non chiaramente la presento non posso leggere tutto il CV se no non diventa breve nulla ma cercherò di essere succinto insomma la professoressa Carozzi è laureata in fisica e con un dottorato in ingegneria e professoressa di bioingegneria industriale come ha detto anche il direttore prima si occupa di ricerca in biorobotica questo è uno dei campi ed è il campo in cui è diventata una scienziata rinnovata a livello internazionale dopo insomma dopo un po' di anni come ricercatrice è diventata anche rettore e rettrice della scuola superiore Sant'Anna e dopo quell'incarico è stata anche membro del Parlamento italiano e per due anni in quella legislatura ministra dell'istruzione e dell'università e della ricerca in seguito è stata direttrice dell'IRCCS della Fondazione Don Carlo Gnocchi e dal 2021 è la Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche siamo di nuovo molto onorati abbiamo un grosso piacere che sia qui le do il palco professoressa Maria Chiara Carrozza buonasera a tutti grazie per avermi invitato qui grazie a tutti voi per l'accoglienza e anche di avermi dato l'onore di fare di tenere una lecture intitolata a questa importante scienziata che ha lasciato veramente un segno anche per tutta la sua storia non solo per il teorema ma che ovviamente è molto interessante l'avrò a vedere bene io ho cercato di condensare in pochissime diciamo slide e quindi una descrizione del mio percorso di carriera perché ho pensato che insomma fosse anche forse interessante soprattutto per le studentesse e gli studenti vedere insomma cos'è che mi ha portato fin qua in effetti io sono il prodotto di tante cose tanti colpi di fortuna tanti scenari e tanti ambienti favorevoli e anche un po' di coraggio che ho sempre avuto e anche di senso io sono una persona spericolata non tanto spericolata in macchina o in Vespa peraltro sono andata in Vespa in Grecia e quindi senza mai piantare la tenda dormendo sempre all'aperto per cui sono anche un po' spericolata alla guida e quindi la Vespa è importante nella mia vita e quindi diciamo sono 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 toscana sono nata vicino a dove la Vespa è stata pensata e quindi un po' di questo ingegno sregolatezza mi è rimasto e quindi allora il titolo è il futuro della scienza nel suo insegnamento perché è molto importante per noi ricercatrici ricercatori scienziati lasciare e fondare una scuola una scuola di pensiero e farlo insegnando e insegnando sempre modificando quello che noi pratichiamo e l'insegnamento è centrale in effetti è la cosa che mi manca di più in questi anni che sono al CNR allora prima di tutto da dove sono venuta da Pisa Pisa in effetti è stato uno dei primi punti di forza perché nascere a Pisa in un contesto dove ogni 10 metri c'è un'istituzione scientifica diversa una scuola un istituto di ricerca c'è tanto in pochissimi metri quadri non neanche chilometri quadri hai l'opportunità di incontrare il mondo e quindi questo è stato effettivo scusate io ho pochissima voce mi hanno anche insegnato a respirare ma quando ero al Don Gnocchi ma non ce la faccio e quindi io vengo da Pisa una città universitaria è un posto dove veramente si hanno tantissime opportunità vengo da un liceo scientifico dove quando ho iniziato avevo due grandi passioni la letteratura francese e la fisica e questo perché magari avevo delle insegnanti molto molto brave e un po' è un po' anche la storia della mia vita sempre un po' in bilico fra la lettura la letteratura la storia la filosofia la Francia come modello e poi la scienza e non ho mai perso questa passione per la letteratura sono una grande elettrice anche se ho poco tempo e poi gli scout e gli scout sono stati molto formativi per me ancora me lo ricordo e avevano un motto che poi è stato un po' il motto della mia vita che è la guida e lo scout lasciano l'ambiente migliore di come lo hanno trovato questa cosa qua mi è stata proprio impressa è diventata insomma un'espressione della mia genetica modificata dall'ambiente per cui tutte le volte che sono andata in un ambiente ho girati parecchi come si vede dal mio curriculum ho sempre cercato con tutte le mie forze di dedicarmi al 100% e di lasciarlo un po' meglio di come l'ho trovato ma per lasciarlo per gli altri perché poi in effetti ho anche lasciato molto le cose agli altri ai miei allievi soprattutto alle ragazze e studenti che ho avuto e gli scout mi hanno anche insegnato a vivere in comunità che in effetti vivere in comunità è un po' come vivere in laboratorio quindi in laboratorio ho potuto replicare un po' lo stesso ambiente e quali sono stati i libri fondamentali i libri fondamentali della mia vita sono molto importanti ognuno di voi nel suo piccolo come dire sa cos'è che lo ha colpito e ha inciso nella sua vita io ho scelto alcuni libri uno è personaggi e scoperte della fisica contemporanea che ho trovato nel libro di mio fratello nella camera di mio fratello maggiore quando facevo la seconda terza liceo lui se ne era comprati diversi di queste edizioni e cominciai a leggere questa storia della fisica contemporanea appassionandomi dicendo io voglio diventare come loro i role model erano loro ed erano poi i fisici anche molti italiani che hanno fatto un po' la storia e questa è anche la ragione perché poi ho studiato fisica delle particelle elementari mi sono laureata in fisica al CERN e in effetti questo personaggio scoperto della fisica contemporanea ha un po' il bias della fisica delle alte energie che è appisa appisa è la fisica si dice di alta o di bassa energia non si dice materia condensata quindi è molto interessante perché si classificano i fisici rispetto all'energia ma voi lo capirete benissimo e quindi non ve lo devo spiegare e poi ovviamente Asimov cronache della galassia questa è l'idea del cervello positronico poi ritornata infatti ho fatto neuro robotica e anche quest'idea di mandare i robot al posto nostro poi ritornerà e in un libro di fisica molto importante che c'era al liceo dei miei tempi che è questo del PSSC che si incentrava sulla fisica sperimentale io sono convinta che la fisica vada studiata per esperimenti e osservazione degli esperimenti poi arriva l'astrazione l'astrazione massima io me la ricordo nell'esame di fisica generale ore e ore noi avevamo un professore che si chiamava Adriano Di Giacomo delle lezioni bellissime bisognava stare tipo otto ore a risolvere a predire e praticamente fare i calcoli del modello standard perché come sapete appunto fisica appisera molto il bias delle alte energie fare un calcolo che prediceva un'interazione di particelle elementari però alla fine i numeri tornavano e io mi dicevo ma come è possibile che siamo delle ore a fare questi calcoli sul foglio e poi alla fine i numeri possono tornare che era questa la magia della fisica e poi Baudelaire che a me piacciono particolarmente i petit point I'm un pause che sono stati insomma una delle letture ricorrenti della mia vita i film sono anche molto importanti immagino che anche voi abbiate i vostri film sicuramente a quei tempi si guardava la televisione io guardavo Quark non me lo perdevo e poi guardavo tutti i telefilm dell'incredibile Hulk i miei fratelli non mi sopportavano perché allora si pranzava insieme e io li imponevo l'incredibile Hulk e che era diventava verde un po' la bioingegneria diciamo ha a che fare con questo e poi Star Wars che ovviamente io so a memoria immagino che per voi sarà un po' vintage e poi c'era anche nei telefilm di spazio 1999 e un film che è indimenticabile Ritorno al futuro se non l'avete visto guardatelo sembrerà un po' vintage ma è meraviglioso del 1984 quindi io sono una ragazza degli anni 80 questo si capisce molto bene e poi durante l'università a quei tempi era più ricca l'università noi facevamo molti viaggi di istruzione venivano chiamati così io praticamente ho visto tutte le facility del mondo perché un anno sono andata a Desi a vedere un sincrotrone a Hamburgo un anno a Fermilab a Chicago Urbana un anno sono stata a Frascati e un anno sono andata in Russia dove abbiamo visitato Dubna dove c'è un sincrotrone abbiamo visitato l'Accademia di Fisica di Mosca ed era ancora Urz non era ancora stava per cadere il muro e poi sono stata alla città della scienza Novosibirsk e in uno studentato con altri studenti russi che allora erano sovietici e si nascondevano prendendo da bere la sera organizzavano delle piccole scenette su Lenin facevano la parodia di Lenin e a loro gli sembrava di fare una cosa straordinaria perché noi ci sembravano invece molto ingenui però è stato molto divertente ma molto formativo alla fine ho fatto su una simmetria la violazione di CP la mia tesi sono stato fatto un internship al CERN e ho studiato la violazione di CP la violazione di CP è uno dei must del mio relatore che tutta la vita ha studiato la violazione di CP con decadimento dei K qui siamo diciamo fra fisici quindi posso dirlo è veramente la violazione di CP è qualcosa che va alla vera essenza della natura come giustamente è stato detto le simmetrie sono delle simmetrie sono per un fisico sono una cosa meravigliosa da cercare di spiegare e soprattutto da mostrare perché ovviamente la violazione di CP mostra la violazione temporale che poi dà origine alla vita quindi è un qualcosa che è anche a vedere con la vita e qui comincia il dubbio sulla vita la termodinamica la meccanica statistica e poi la scelta di fare il PhD in tutta un'altra area i miei compagni di corso mi dicevano poverina vai a fare il PhD in ingegneria ma chi te lo fa fare però io avevo visto intravisto nella proposta che mi fecero poi alla scuola Sant'Anna una possibilità per la prima volta studiare l'infinitamente piccolo non solo per la microelettronica ma anche per il movimento i microattuatori e soprattutto l'applicazione biomedica quindi i microattuatori e io mi ricordo sono partita da questo paper che si chiama Microattuators for Microrobot a Critical Survey cioè quindi era allora nasceva la microingegneria che la tecnologia del silicio erano state inventate per la microelettronica e l'idea degli ingegneri era quella di sviluppare invece anche attuatori generare e controllare il movimento e quindi non solo usare come diceva i semiconduttori per i transistor ma lavorare il silicio e realizzare dei micro robot quindi l'essenza della robot così come la fisica l'essenza della fisica è lo studio delle simmetrie l'essenza della robotica è il controllo del movimento cioè un robot è una cosa che si muove il bot che vediamo diciamo sui dati online non ha niente a che vedere con la robotica per noi la robotica è movimento è fisicità quindi l'obiettivo era passare da una tecnologia fortemente bidimensionale dai walper di silicio a delle strutture tridimensionali realizzare degli attuatori e controllare questo movimento per poi interagire con le cellule andare nel corpo umano e fare tante cose che poi negli anni si sono realizzate ecco questo è molto importante perché è stata la mia tesi di dottorato tre anni di microingegneria tre anni di trasformazione da fisico in ingegnere bellissimi e credo che il dottorato siano poi gli anni più belli della nostra vita perché sono gli anni in cui diventiamo veramente ricercatori e innovatori e dobbiamo dire che cos'è che abbiamo fatto di nuovo per me il nuovo era la struttura tridimensionale delle microvalvole in una micropompa per il rilascio controllato di farmaci quindi l'idea di passare dalla bidimensionalità del silicio che si capisce anche guardando i wafer a una struttura tridimensionale in cui ci potessero essere delle valvole che controllassero il fluido in modo da avere delle micro gocce delle micro quantità di fluido controllato nel rilascio di farmaci e quello è stato diciamo la mia tesi di dottorato e dopo per mantenermi perché non c'erano posti alla scuola Sant'Anna ho dovuto accettare di fare lo spazio però è stata una bellissima esperienza perché venne vinto un grant su le tecnologie spaziali che riguardava la microfluidica per i microsatelliti i microsatelliti in realtà non sono così micro sono abbastanza grandi ma a quel punto abbiamo potuto lavorare con un grosso finanziamento ESTEC quindi un'altra grande infrastruttura dopo il CERN dopo Novosibirsk una enorme infrastruttura di ricerca e ho lavorato sui bioreattori per gli esperimenti spaziali che poi ora sono uno dei prodotti di questa società che si chiama Kaiser che si trova a Livorno su cui ha costruito il business che sta facendo adesso poi sono diventata ricercatore ve la sto facendo breve però sempre questo percorso dal micro sempre più grande per integrare sistemi e ho studiato i attuatori per l'endoscopia del colon quindi sempre il movimento sempre andare questa volta nel corpo umano quindi il robot che va e risale nel colon in modo semi-automatico studiando i meccanismi di propulsione quindi che si chiamano inchworm quindi tipo verme che si arrampica all'interno del colon con una serie di brevetti e una serie di collaborazioni internazionali anche finanziate da una istituzione coreana non mi chiedete come mai andammo poi fino in Corea a cercare soldi ovviamente qui non c'erano e quindi abbiamo avuto un grosso finanziamento da un'istituzione coreana quindi siamo dovuti andare a Seoul più volte e è diventato poi un robot che poi è cresciuto e una delle persone che ha fatto il PhD con me adesso è Dean della School of Engineering della NTU a Singapore questo per dire che appunto il segno della scienza è che lui ora è il Dean della School of Engineering di una delle università più prestigiose del mondo lui si arrivò da me che aveva poco più della sua valigia non aveva niente non era non sapeva niente e nel senso che era proprio cioè come dire un giovane studente pescato dal web che aveva fatto domanda online di cui non sapevo nulla si è trasformato grazie a questo periodo e poi è diventato anche più importante di me in una prestigiosa università ecco perché ho detto che il segno della scienza è nel suo insegnamento vado veloce ovviamente ogni robotico che si rispetti deve stare in Giappone per un periodo noi abbiamo fatto un robot umanoide di cui noi poi ci siamo occupati delle mani io per anni sono stata responsabile di questo di questo progetto finanziato dal Ministero degli Esteri uno dei primi Joint Lab abbiamo fatto la Expo di Aichi e lì è cominciato insomma veramente anche la collaborazione in giro per il mondo queste sono delle foto dei ragazzi con cui ho lavorato perché poi ognuno di loro ha la storia sua quindi ecco questo che volevo trasmettere che poi quello che conta per un docente è le persone che ha formato dove sono andate quante idee brillanti hanno sviluppato è un po' una rete è un fiume in piena ma che si dirà ma che cresce e cerco di finire più velocemente possibile poi se avete delle domande ovviamente sono disponibili non so se le domande siano previste però il mio vero fiore all'occhiello ma lo dico sentimentalmente se poi ovviamente ognuno di noi è giudicato sulla base della sua produzione scientifica da chi la regge non è che possiamo auto come dire valutarci però per me il cuore mio sarà sempre sulla mano artificiale cioè a un certo punto io mi occupavo di questi robot per colonoscopia quindi avevamo brevetti avevamo fondato una spin off così ma a un certo punto è venuta una grande occasione un progetto nazionale finanziato da INAIL che voleva sviluppare una nuova famiglia di protesi di arto superiore più con prestazioni superiori le protesi sono nate in Italia per farla breve soprattutto dopo la prima guerra mondiale perché c'erano molti soldati invalidi purtroppo questa cosa è ricorrente ogni volta che c'è una campagna in Afghanistan una campagna in Iraq adesso la guerra che c'è in questi giorni ogni volta che c'è una guerra ci sono i veterani con gli arti amputati questo è un classico e in Italia una competenza dell'impianto di protesi di arto superiore e inferiore ma soprattutto superiore è nata a seguito della prima guerra mondiale dove tornarono tanti reduci che non potevano più lavorare né mantenere la famiglia e nacque questo tessuto che poi si è sviluppato all'INAIL e quindi arrivò questa cosa il mio mentore di allora il rettore tutti quanti dissero qui c'è una responsabilità da prendersi un grosso progetto e dobbiamo trovare chi se lo prende chi vuole portarlo avanti io non sapevo molto di questo tema però volevo entrare nella bioingegneria della riabilitazione il mio sogno era curare la disabilità dare la possibilità alle persone che non avevano più le mani ma alle persone in generale con disabilità motori e la possibilità di muoversi ancora perché questa scelta è stata una scelta etica lo sanno in molti anche alla scuola Sant'Anna perché il settore della chirurgia era ricchissimo quindi io mi ero occupata di strumenti per chirurgia per endoscopia c'erano grosse company europee tedesche giapponesi il settore della disabilità era poverissimo non c'era perché le persone disabili non hanno una forte industria dietro è un settore dove l'innovazione tecnologica è molto lenta e allora non si parlava ancora degli impianti neurali si cominciava a parlarne e quindi dissi no bisogna che qualcuno se ne occupi e io dissi lo voglio fare io l'INA all'inizio disse di no alla mia persona poi piano piano abbiamo imparato a convivere oggi ci vogliamo molto bene ma all'inizio disse no ma questa che ne sa è così giovane avevo fra i 35 e 40 anni non mi ricordo neanche più e poi però per me è stata la mia grande chance la responsabilità delle protesi di arte superiore abbiamo realizzato quest'idea che si chiama cyber end in cui praticamente si sviluppa una protesi con vedete dita artificiali il tatto artificiale che poi è stato uno degli argomenti che ho studiato di più e questa idea di un impianto neurale del sistema nervoso periferico cioè degli elettrodi che connessi col sistema nervoso periferico permettono non solo di leggere il segnale afferente cioè quindi l'intenzione motoria e quindi inviano un comando di chiusura apertura per shaping alla mano ma anche leggono le sensazioni tattili prese dai sensori a tattili artificiali le trasmettono attraverso la stimolazione elettrica si chiama encoding del segnale dei sensori quindi codificano nel linguaggio del sistema nervoso periferico il segnale dei sensori trasmettono quello che si chiama feedback sensoriale che diventa percezione nel cervello umano questo fascino fra l'azione e la percezione il controllo motorio il controllo del movimento il tatto come senso che ho studiato poi tantissimo insieme anche ai neurofisiologi è stato uno dei viaggi più affascinanti della biorobotica lo posso dire perché ha coinvolto poi tantissimi robotici e abbiamo scritto tanto lavorato tanto cercato di lavorare sia sulla parte degli attuatori quindi i meccanismi di attuazione il pre-shaping quindi a cosa servono tutte le varie prese la schematizzazione le sinergie motorie muscolari per realizzare queste prese è un mare c'è uno dei libri bellissimi uno si chiama Hand and Brain ora non ho fotografato la copertina non ho preso la copertina però Hand and Brain a me mi disvelò l'interazione fra psicologia cognitiva neurofisiologia dei meccanocettori con neurocontrollo e robotica cioè un legame è pazzesco perché di fatto noi imitiamo una mano la mano ha più di 17.000 meccanocettori alcuni concentrati molto di diverse tipologie 5-6 tipologie concentrati sui polpastrelli ha 22 gradi di libertà ha una muscolatura che è praticamente strinseca non è dentro la mano il muscolo della mano e quindi è molto interessante e poi è uno dei modelli robotici più interessanti da sempre i robotici si confrontano con quello che noi chiamiamo grasping cioè afferrare e con manipolare che significa tenendo l'oggetto fermo in mano muoverlo nello spazio poi ho fatto la rettrice io ero talmente inconsapevole del ruolo che avevo che quando c'era da metterci la toga la facevo mettere al mio predecessore questo per dirvi quanto io non mi aspettavo nemmeno di essere letta quindi tutti dicevano ti sarai rovinata invece poi sono stata letta e è stato molto bello perché la scuola era anche un ambiente ricettivo poi ho fatto il ministro e qui sono stati delle finestre importanti nella mia vita mi è servito molto l'insegnamento di una persona che per me è stato un mentore anzi due due persone che per me sono state fondamentali e quindi vorrei dire agli studenti di avere sempre in mente il mentore uno è stato Salvatore Settis che era direttore della scuola normale superiore che mi disse non fare il rettore di mestiere mi raccomando perché il rettore inizia e poi finisce il tuo prospettiva deve essere uscire bene non entrare bene e mi fece una io ero molto più giovane di lui una testa su questo fatto che non dovevo smettere lui diceva di studiare perché letterati dicono che il loro lavoro è sempre lo studio e quindi non smettere di studiare e quindi praticamente abbiamo poi mantenuto questo rapporto negli anni mi scrive ancora ogni tanto e ho cercato di mantenere questo fatto di non avere come unica ambizione culturale quella del mestiere che sto facendo il rettore il ministro perché tutto passa e bisogna noi restare con i nostri obiettivi scientifici il nostro background culturale avere sempre la cognizione che dobbiamo sempre come dire avere un dopo e un futuro pensare sempre al futuro quindi poi ho fatto il ministro e poi ho fatto il membro della commissione esteri per qualche anno e lì mi sono occupata del parlamento questo qui c'è scritto Kurdistan e quindi del parlamento kurdo siamo andati abbiamo fatto tante conferenze interparlamentari e siccome nessuno lo voleva fare non sto scherzando ma è che è vero ho fatto da relatrice a tutti i provvedimenti sull'artico sullo spazio di accordi internazionali che è una cosa che politicamente non paga però dà una grande come dire forza perché ho visto come nascevano tutti gli accordi internazionali per fare il laser elettroni liberi la spallation source l'artico il mare le sostanze una volta in parlamento e qui finisco non so quanti minuti o ancora in parlamento mi è capitato che io facevo dal relatore un provvedimento che era sullo spazio extra atmosferico cioè sull'universo io inizio a parlare c'era questo accordo che secondo me era importante perché poi riguardava i detriti nello spazio che è un tema insomma rilevante inizio a parlare una confusione in aula eravamo alla camera dei deputati e allora c'erano tanti tanti deputati a un certo punto batto sul microfono e faccio onorevoli colleghi io sto parlando dello spazio extra atmosferico forse non avete capito che è l'universo intero di questo provvedimento e voi siete qui che mi ignorate ma state prendendo una votazione che poi riguarda l'universo tutti zitti per un minuto e poi hanno ricominciato a parlare comunque adesso è effettivamente quello che è stato detto prima ho preso questa foto che è con amici di Trento e Bolzano ma è molto interessante perché in effetti era un mondo di uomini e oggi per fortuna anche voi avete una rettrice non è più un mondo così maschile anzi è un mondo che sta diventando anche femminile però è stato in salita in certi momenti soprattutto per l'ambientazione vedete questa foto è emblematica un altro elemento molto importante per me è stato la Cina ed è una delle cose che mi manca di più il viaggio in Cina nel senso che eravamo abituati anche a avere colleghi noi abbiamo fatto anche una spin off che collabora con una spin off di una istituzione cinese c'era molta insomma anche fratellanza per certi punti di vista insomma si stava molto insieme si lavorava si cercava di sviluppare gli esoscheletri insieme che è uno dei miei altri settori e adesso invece non si può più fare nulla e questa cosa qua secondo me va recuperata perché la diplomazia scientifica è fondamentale parlarsi è decisivo e quindi adesso siamo arrivati in fondo ovviamente questo è un esoscheletro di arto superiore questa è stata l'ultima parte della mia attività prima di entrare al CNR abbiamo poi fondato una società che si chiama Juvo che ha disegnato uno dei primi prodotti esoscheletrici in commercio è un esoscheletro di arto superiore quindi mi sono occupata dei robot che entrano nel corpo umano poi mi sono occupata dei robot che si impiantano le mani e poi invece che si indossano quindi diventare wearable wearable vuol dire seguire la biomeccanica del movimento essere coerenti con una frase con un termine che voi fisici capite perfettamente sincroni cioè sincronizzare il movimento del robot è come avere due manipolatori uno dentro l'altro quindi il manipolatore del braccio umano e il tuo controllo motorio magari che non riesce a compiere tutto il movimento e un altro manipolatore che è fuori parallelo però che hanno poi le stesse gradi di libertà e i gradi di libertà in movimento e la cinematica umana è estremamente complessa solo l'arto superiore ha molti gradi di libertà prima vi ho detto 23 22 23 gradi di libertà della mano e quindi anche nel caso degli esoscheletri quindi qui c'è Nicola Vitiello che ora è professore ordinario e porta avanti queste cose sempre nello spirito e quindi un po' ho attraversato dall'automazione industriale alla robotica sociale questo è un tema molto importante questi sono slide dal 2015 al 2017 dove cominciamo a pensare alla robotica in competizione la seconda rivoluzione robotica vera cioè la robotica che esce dalle linee manifatturiere dai laboratori dagli ospedali ed entra nella vita sociale questo fu un tema etico molto importante e ho scritto anche un libro che si chiama Robot and Us avrei continuato ma poi sono diventata presidente del CNR poi mi sono occupata della robotica neuro-riabilitativa quindi in ospedale per quattro anni sono stata fra Milano e Firenze soprattutto e abbiamo cercato di lavorare con i pazienti che è un po' il coronamento di una carriera da bioingegnere è necessario confrontarsi con i trial clinici e quindi lavorare sempre portando i robot nella terapia riabilitativa e infine sono diventata presidente ho finito e questa è un po' la storia è stata per me una cosa bellissima io in quei giorni quando sono diventata presidente rimasi completamente sopraffatta dall'accoglienza di questa notizia tutti sembravano tutte notizie positive insomma questa accoglienza che non c'era mai stata nella mia vita in politica ho sempre avuto dei problemi ovviamente come è logico che sia ma anche come rettore quando sono diventata rettore è stata un'operazione dicevano che ero troppo giovane che ero diventata ordinario da poco trovavano sempre delle controindicazioni qui invece venne accolta bene poi ho capito perché perché c'era davvero da lavorare al CNR e quindi c'era sempre l'altra faccia della medaglia e adesso stiamo festeggiando il centenario e il CNR è veramente un posto bellissimo e ho fatto l'ultima scoperta diciamo di interesse della mia vita che sono le scienze naturali e la biodiversità cioè dove veramente ho scoperto un mondo dedicato alla alla natura alla biologia alla riscoperta della natura all'artico le scienze polari la biodiversità l'ambiente cioè un mondo bellissimo che non conoscevo e ovviamente questa è la mia prossima battaglia dovunque sarò grazie per l'attenzione anch'io ne approfitto per ringraziarti Maria Chiara soprattutto per la spontaneità con cui hai fatto questa relazione anche l'avere ammesso i momenti di difficoltà ed è importante credo per i nostri giovani noi qui a Ca' Foscari abbiamo bandito delle borse di studio per stimolare le ragazze a iscriversi alle lauree scientifiche perché sembrano più difficili di quelle letterarie e noi a Ca' Foscari abbiamo una tradizione di studentesse che storicamente si iscrivevano alle lauree linguistiche umanistiche perché appunto il mestiere che avrebbero svolto sarebbe stato quello dell'insegnante che apparentemente occupava di meno invece vedo molte ragazze qui e questo è un bel segnale anzi forse ci sarà più del 50% di donne in questa sala quindi significa che quello che hai detto è vero è stato superato ormai quel limite che forse è nella nostra formazione culturale e le ragazze non temono più voglio sperare spero che lo possano confermare una carriera basata appunto sulle stem e quindi apparentemente e forse anche realisticamente più difficile grazie infinite grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi